I BORKMODZ Questa va bene con collisioni Quando sono già impostate senza Rega meglio A parte che lo scrivono nella descrizione Oppure come sniffere su PC Che specifica quanti giocatori dobbiamo essere Per giocare senza collisioni Ah con collisioni Tipo il numero perfetto per giocare con collisioni È 8 tipo 8 oppure dipende dalla gara Oppure 6 Non in 30 come facevo una volta Che rimanevamo 40 minuti In un equilibrio perché qualcuno Non respawnava Ah vedi che spettacolo Stupendo Vabbè io ci ho provato a avviare la miniatura Ma va niente Averdi qua Al massimo Ah ok tipo un cambio qua ci abbiamo Va bene questa velocità Ma chi Oh siamo vivi Fa un cambio leggermente strano questa Duke Bene bene Si è pure bugata Rega Allora No no è arrivato È arrivato Ma che diamine Tutto a me mi succedono i bug adesso Rega E andate Andate Andiamo Ok 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 Aiuto 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 Ciao per casco io sotto State qui Dove scappati Dove scappi Matag Dove scappi Dove scappi Dove scappi Vorrei sapere E mo Nel tu Porica Di qua E dove Ah qua c'è una stradina Aspettate Questa parte Per di qua Vediamo Meno male che ha messo una guida Sì sì Semplicemente Per di qua Rega Poi c'è pure una parte No McBass No Allora Aiuto aiuto Cambietto fatto Dice giù Ci dobbiamo rigirare Con la pala Facciamo così Tranquillamente A parte Con level asianino Dove stava Il tubo aperto Rega Ma dobbiamo andare su Al massimo Vediamo Sembrerebbe Di sì 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 C'è il fact check Pericoloso E mo C'è chi sta giù Ci dobbiamo Ah la freccia Rega Aspettate Aspettate Oh no C'ho paura Ok Vediamo se è così Sì Che spettacolo Ok Ci siamo Proseguiamo Proseguiamo Tranquillamente Super Mega Tranquillamente Ok Duke of death Guarda Guarda come drifta Guarda che drifta Rega Eh le muscol Su queste parti Con la neve Sono spettacolari Guardate che Drift carino Ok Aiuto 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 Dopodiché Slalom In uno slalom Ci siamo Ci siamo Ci siamo Perfetto Ok La freccia Indica su Un'altra giù Un'altra su Quindi Rampetta Oh Dritti Ah aspettate 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 La metà prima persona Che spettacolo Così No no Ci ho provato Ho sfiorato troppo Cartello Indica Che ci dobbiamo Rigirare Eh sì Il check sta lì Oh no Non possiamo andare Di là infatti Dobbiamo rifare Questo slalom Oh Slay Da Dio Di nuovo Aspettate Sì Il check Ce lo indica Dietro Ok No 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 Rega Devo rifare Tutto Ti prego Sono uscito Dove sto Non ce la fa Peccato Dobbiamo Respawnare Dobbiamo Respawnare Ripare tutto Vabbè Tanto ormai Abbiamo capito Non è Un grandissimo Problema Allora Allora Rifacciamo Cosa ho colpito Scusate Facciamo questo slalom Bello pulito Allora qua Dobbiamo fare attenzione Però quando ci rigiriamo Ok Ok Ho fatto una girata Troppo Estrema E siamo finiti fuori Anche perché con questo meteo Non si capisce dove è il fuori Si capisce un po' dai cordoni Ma nemmeno più di tanto Ok E ora ci indica giù Ah no c'è un turbo Sì sì Dobbiamo andare qui Vediamo Ok Perfetto Perfetto Ci siamo Carina Carina questa parte Quanti c'è che sono 24 su 44 Raga Quindi è ancora lunga La chiarità Ok Aiuto Aiuto Lunga Raga Eh se non attacchiamo il drift Cioè Meglio farla in drift Questa parte Ok Che spettacolo Raga Oh Rischioso Eh no Questo però non lo succede Il bug No Ok Ok Raga Aspettate Allora C'è che sta lì Evitiamo di fare Cavolate Oh Non mi cascare Ok Allora Adesso cosa dobbiamo fare Vediamo un po' La situation Per di qua Ci dobbiamo appoggiare Via 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 Dopodiché Ah Era veloce Io sono andato lento Ma forse ci siamo Sì 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 Oh Pure il freno L'ha messo Ok Perfetto Perfetto Andiamo Andiamo Allora qui È meglio fare così Oh È un tubo È un tubo Che devo fare Ah ok Dobbiamo salire semplicemente qui Grazie al bretto di Natale E adesso cosa abbiamo Coria Dice che ci dobbiamo rigenerare Ok perché c'è il freno No Dove stanno le gomme Non ci sono gomme Ah no Ok ok Ho capito Ho capito Bisogna rigirarsi subito Per poi prendere Il wallride Ah io sono abituato Con le gare classiche Così E poi andiamo giù Ok Perfetto Ci siamo E dopo di che No Cosa indica il disegnino Ah Retromarcia Retromarcia Meno male che ho visto il disegnino Retromarcia Retromarcia Ok Bella sui Mi saluta Saetta 42 92 Saluto Saluto Ok Proseguiamo Dove dobbiamo andare di bello Non so mai se devo andare al massimo Oppure no 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 Tutto ok Qui Wow wow Belle queste parti particolari Ok Cosa abbiamo qui Nuo duke Drifta 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 Bella tranquilla Duke Garita Spettacolare Spettacolare No Corri 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 Ok Oh Carina Questa girata Tutto Drift Tutto Drift Ok Dobbiamo fare così Al limite Al limite Pure qui al limite Oh Sbagliato 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 Olè Andiamo sto bel check Finita È finita la gara Bellissima Particolare Questa qua Non aveva quei trick Strani Come le altre Però Stupenda Oh come solo uno Regà Solo uno porta sfortuna Che dovevo fare Andiamo Ok Ok Dovevo fare bullying Comunque sia Se vi Starai Se vi è piaciuto Questo Questa Gheretta Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello E noi ci becchiamo Sbagliato